Con questa preghiera di protezione si spezzano tutte le legature, le fatture, le maledizioni e i riti. È una potente protezione costante nel sangue preziosissimo di Gesù per annullare il potere di tutto ciò che di male, malefico e diabolico ci viene fatto dai maghi o dalle persone malvagie che in astrale ci raggiungono di giorno e di notte attraverso il potere dato a loro dai demoni per potenziare i riti, le fatture, le maledizioni, i legami e le legature fatte su di noi. Con questa preghiera si spezzano e ci sciolgono anche i chiodi conficcati nella testa, spilli e tutto ciò che di male continuamente ci viene fatto e ripetuto con la ripetizione automatica e nel perpetuamento dei riti. Si consiglia di recitarla tutti i giorni, almeno tre volte al giorno e in ogni momento di necessità per indebolire e distruggere ogni potere malefico su di noi e il potere che hanno i maghi e le persone malvagie di raggiungerci in forma astrale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io chiedo agli angeli, agli arcangeli, ai santi e ai santi bambini, nel nome di Gesù Cristo, di farmi la protezione della bolla mistica con un raggio di 500 metri sopra di me e sotto di me, alla mia destra e alla mia sinistra, davanti e dietro. Chiedo che questa bolla mistica venga riempita del preziosissimo sangue di Gesù che non appena si avvicina e entra una persona anche in astrale, spirituale e in maniera diabolica, sia di giorno che di notte, che pensa male di me, che mi vuole male, che pensa di farmi del male o che vuole farmi del male o che mi ha fatto del male, subito sia trapassata dal sangue di Gesù Cristo e Satana e i suoi poteri in queste persone malvagie siano legati, bruciati, spezzati e sterminati per sempre. E ora chiedo a tutti i santi del paradiso, nel nome di Gesù, che non appena chiunque pensa a me per farmi del male o che voglia farmi del male o che mi faccia il male o che mi abbia fatto del male in precedenza anche a distanza, in astrale e in forma spirituale, subito, con effetto di rimbalzo, sia trapassato da uno zampillo del sangue preziosissimo di Gesù Cristo e Satana e i suoi piani e poteri in queste persone malvagie, siano legati, annullati, bruciati, distrutti e falliscano per sempre contro ogni altra volontà, anche diabolica, sia di giorno che di notte e sempre. Amen. 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 Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.